Non ci... no! Moroti, io direi di andare a casa di Pevi, veloce! Andiamo, porco Pevi! Torniamo al futuro! Perché velocemente vuol dire che il suo reattore nucleare sta per esplodere! Esatto, cosa vuol dire il suo reattore nucleare? E casa su... ah beh, Tanto non è più vicino a casa nostra! Non so, ma è vicino a casa di Hemelph! Oh, shit! Veloce! Non vogliamo essere bannati per colpa di Pevi! Via! Ragazzi, sono un inviato speciale di TGVGAM! Siamo qui a vedere le ripercussioni del reattore nucleare di PeviFull98! Che ha fatto un grande boom! Le radiazioni se ne stanno andando! Sì, non ci sono più tante radiazioni! Il sistema di forcefield di Pevi non ha potuto reggere il danno! Virei! Virei! Gattache! Ti很 Grazie a tutti